buonasera da elisabetta ternullo per assegna metropolitana siamo alla schlock con marco genovese docente di piano jazz e moderno marco ci dici chi sei e della tua collaborazione con la schlock io sono marco e sono un pianista siracusano e sono felice quest'anno di collaborare con la struttura schlock diretta da salvo tempio e niente il mio corso di piano è rivolto a tutti e organizzato in questo modo e ho pensato di unire la tecnica classica perché il pianoforte uno strumento nato in un periodo classico quindi unire la tecnica classica all'armonia moderna quindi tutto quello che è nato nel novecento dal blues al jazz fino ad arrivare al rock e alla musica dei nostri giorni e che altro dire che i corsi sono già stabiliti quando comincerete la scuola sarà attiva dal primo ottobre quindi possiamo partire dal primo ottobre e niente che che allievi di che età di che età appunto dicevo no è rivolto a tutti perché mi sono occupato tanto tanti anni di insegnamento ai bambini ma anche ai grandi quindi ci possiamo rivolgere sia agli amatori che ai professionisti anche alle persone che schlock collabora con 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 l'istituto col conservatorio di messina quindi possiamo preparare i ragazzi ai corsi per accademici per il conservatorio di messina per un bimbo che predisposto qual età è meglio che cominci ma dai quattro anni in su quindi dai quattro ai cento quattro dai quattro ai cento quattro ricordiamo che la schlocka in via 10 ottobre 114